Pieve Santo Stefano ospita la quindicesima edizione della mostra del libro fatto a mano con la curatrice dell'associazione che porta lo stesso nome, Ombretta Pellegrini, per descrivere questa edizione. Libri fatti a mano anche quest'anno ripropone una serie di iniziative nei cinque giorni dedicati al libro, alla promozione della lettura. Diciamo che le tre mostre che vengono allestite sono una dimostrazione di come si può sbizzarrire la creatività dei bambini così come degli adulti. All'assessore alla cultura del comune di Pieve Santo Stefano Luca Gradi chiediamo l'importanza di questa mostra. sappiamo che è una mostra che attira tantissimi visitatori. Pieve Santo Stefano ha la titolazione di Città che legge e in una caso lo ha perché con eventi, con iniziative come questa di Libri fatti a mano, così come l'archivio dialistico nazionale ma non solo, ci sono altre attività legate alla cultura del libro e ci poniamo come un punto di eccellenza culturale legato proprio alla cultura del libro in tutte le sue sfaccettature. Io concluderei dicendo, professoressa Ambretta, un saluto, viva la lettura! Viva la lettura, senza altro, la lettura ci rende la vita più felice, più gioiosa.